Buonasera a tutti, buonasera cari ascoltatori, Donato Lo Scalzo, conduttore della trasmissione It's the economy, stupid, nel caso specifico It's the euro, stupid. Ho il piacere e l'onore di essere qui, di avere qui con me oggi, questa sera, un carissimo amico, collega, coautore, o meglio, autore lui e io, umile coautore di una serie di articoli su un argomento che spero troveranno il vostro interesse e anche il dibattito. La moneta fiscale, il CCF. Voi sapete che questa trasmissione è incentrata sugli argomenti di economia, di finanza, e questo vuol dire, in un paese come l'Italia, l'Europa. L'euro, i nostri amici tedeschi, i nostri amici francesi, l'Unione Europea, le restrizioni e l'austerity che ci stanno imponendo e la difficoltà anche teorica di uscirne. Nel nostro piccolo, noi della Lega, abbiamo non solo capacità di critica notevole, ma anche capacità propositiva ancora più notevole. E nel nostro piccolo, nel mio piccolo in particolare, perché Marco ha simpatia, però non possiamo dire essere leghista, ed è meglio perché è un osservatore esterno e neutrale, però all'interno della Lega stiamo cercando di portare delle proposte concrete, alternative, e comunque delle proposte che possono aprire un dibattito sostanziale, e non le solite cose che ci raccontano gli amici del Partito Democratico e tutta la gente di più Europa e così via. Perché? Perché è da vent'anni che siamo in crisi i ragazzi, è da vent'anni che l'Italia non cresce, è da vent'anni che mandiamo i nostri ragazzi all'estero e li sostituiamo con extracomunitari. In questo contesto, mi fermo qui, vorrei invitare Marco a rispondere prima a una domanda e poi parlare del CCS. Perché l'euro ha creato e sta creando così tante difficoltà all'economia italiana? Buonasera, radioscoltatori. L'euro è un progetto che nasce con due grosse disfunzioni di base. Una che è quella che è stata identificata fin dall'inizio del suo percorso, anzi fin da prima, è stata segnalata da molti economisti, è quella di costituire una moneta unica imposta a 19 economie diverse, erano 11 all'inizio, poi sono cresciute gradualmente, con delle situazioni molto differenziate per cui finisce per essere troppo forte per alcuni paesi e troppo debole per altri. Abbiamo avuto l'onore la settimana scorsa di avere Fabio Dragoni che nella sua semplicità, che nasce da una conoscenza dell'argomento profondo, ha detto Italia unica, ad alcuni sta stretta, ad alcuni sta larga, senza altro Italia sta stretta. E come avere il 42 di scarpe, scoprire che si danno scarpe numero 44, 40 o viceversa, se imponi a tutti il 42 qualcuno al 40 e qualcuno al 44, qualcuno le scarpe vanno strette e qualcuno vanno troppo larghe. Però c'è un problema ancora peggiore che è diventato evidente, soprattutto a partire dalla crisi dei debiti sovrani nel 2011, ed è il seguente, con l'avvento dell'euro i debiti pubblici di tutti i paesi che l'hanno adottato, sono stati convertiti da una moneta nazionale in una moneta, tra virgolette, straniera. Una moneta non sotto il controllo degli stati che lo usavano, ma emessa e gestita da un organismo indipendente, sovranazionale, che è la Banca Centrale Europea. Questa cosa significa? Che nel momento in cui una crisi, come quella che è scoppiata in particolare dal fallimento di Lehman Brothers, quindi del 2008 in poi, impone la necessità di effettuare azioni di politica economica anticiclica, espansiva, ci si trova con il problema che i creditori internazionali, i mercati, possono non essere disposti a finanziare livelli di indebitamento che superano certe soglie. Se invece sono in grado di emettere uno strumento monetario o succedario della moneta, diciamo così, che controllo e gestisco io, questo problema viene meno. Che poi è il motivo per cui il Giappone, con un debito PIL pari al 240%, non ha nessun tipo di vincolo a finanziarsi sui mercati, perché di fatto poi il suo indebitamento ieri è interamente sottoscritto, garantito dalla banca centrale giapponese, mentre l'Italia, con un debito PIL che all'arte è poco più della metà, si trova con le costrizioni e i vincoli che impediscono un qualsiasi tipo di azione espansiva e impediscono una qualsiasi ripresa e se posso, anche per semplicità per i nostri accoltatori, fare l'esempio dell'Argentina. L'Argentina è l'unico paese che ha veramente avuto delle enormi posizioni finanziarie, nel momento in cui, per tutta una serie di motivi politici interni, gli argentini hanno deciso di collegarsi al dollaro. Di fatto hanno dato via la loro, pur svalutato peso o pesetta, argentina a favore del dollaro americano. Nel momento in cui non hanno avuto più la sovranità della loro moneta, sono andati in fallimento. L'unica eccezione, se posso dire, da un punto di vista storico, è la Russia, ma proprio perché, venendo da un mondo comunista, probabilmente non avevano capito che non si poteva fare il default sui famosi bond in rubli. Ma con l'eccezione della Russia, tutti i problemi di crisi monetaria internazionale sono sempre derivati dall'accettazione o dalla presa in carico di monete non emesse dallo stesso paese. E questo è fondamentale per tutti i nostri ascoltatori per capirlo, indipendentemente dalla situazione italiana. È un discorso tecnico, lapalissiano, che deve essere compreso e accettato. Poi, una volta accettato, si possono fare delle proposte. Prego, Mauro. Assolutamente sì, e tra l'altro poi, citando il caso russo, la Russia sì, è andata in default su un debito in rubli, ma perché ha fatto la scelta di andare in default, avrebbe potuto evitarlo, naturalmente... Scelta suicida perché da comunisti non avevano capito che cosa stavano facendo, però sono d'accordo, assolutamente. Ci sarebbe poi da rievocare tutto il contesto, le sue particolarità, però una cosa che va precisata è che il fatto di poter emettere la mia moneta evidentemente non significa che ne posso emettere una quantità infinita. Certo, certo. A volte viene caricaturata la tesi di chi propone soluzioni come i certificati di compensazione fiscale, come la moneta fiscale di cui stiamo parlando stasera, dicendo ma voi pensate che non ci sia limite all'emissione di moneta. No, noi assolutamente non pensiamo questo. Pensiamo che la moneta in circolazione, il potere d'acquisto in circolazione, può essere troppo o può essere troppo poco. Se io emetto la mia moneta, o emetto debito della mia moneta, il rischio di avere un eccesso di emissione esiste, ma questo rischio a questo punto non si tramuta in un rischio di default, ma si tramuta a caso mai in un rischio di inflazione. O di svalutazione della moneta. O di svalutazione della moneta per quanto riguarda poi i rapporti con le economie esterne. Però, tornando all'inflazione, io chiaramente devo tenere d'occhio il fenomeno inflazionistico per evitare che la crescita dei prezzi salga al di sopra dei livelli che si desidera raggiungere. Però, in questo momento, in tutta l'eurozona, in Italia ancora di più, la Banca Centrale Europea praticamente quotidianamente ci dice che l'inflazione è troppo bassa. C'è un target di vicino, anche se un filo sotto, il 2%, che la BCE ha l'obiettivo di raggiungere, che in tutti gli otto anni della Presidenza Draghi, l'usannato, l'idolatrato Draghi, non è mai stato raggiunto. Cioè l'unico target effettivo, quantitativo, che la Banca Centrale Europea aveva in questi otto anni, non è stato raggiunto in nessuna parte di questi periodi. Che è il motivo per cui, adesso non prodomo nostra, vorrei partire da una parte del nostro articolo, che abbiamo pubblicato nel passato, che dice, soffocata da un pesantissimo pregresso debito pubblico. E diciamoci la verità, noi avevamo già un debito pubblico altissimo nel 1990, la prossima settimana vi porterò i dati, già ai tempi di De Mita eravamo al 95%, per cui voglio dire, va bene. Da un pesantissimo pregresso debito pubblico espresso in una moneta, l'euro, che l'Italia non emette, il nostro Paese soffre di un grave problema di insufficienza della domanda interna esacerbata dai vincoli monetari. Perché uso questa frase? Perché introduce il concetto principale dei certificati di credito fiscale o compensazione fiscale, cioè la possibilità di sviluppare la domanda interna. Ma perché la domanda interna piuttosto che la domanda complessiva includendo l'export? Prego Marco. La domanda interna perché la carenza di potere d'acquisto che oggi esiste nell'economia italiana si riflette soprattutto su questo. Teniamo conto che ancora oggi, anno 2019, il PIL italiano è circa un 5% inferiore, che corrisponde a 80 miliardi di euro, in termini reali, rispetto al 2007, l'ultimo anno prima che partisse la crisi di Iman e poi tutti gli sconquassi che sono avvenuti successivamente. Nello stesso periodo le esportazioni, nonostante il problema di un cambio che è sopravvalutato, che ci fa perdere competitività rispetto per esempio alla Germania e ai paesi del nord d'Europa, l'export è comunque cresciuto dell'11%, che è una media dell'1% all'anno, non è tantissimo. Però sono 16 punti di differenza. Non solo ci rendiamo conto di cosa vogliono dire 16 punti di PIL. Se il PIL italiano fosse cresciuto in linea con l'export, cioè in linea con la crescita che le nostre aziende hanno comunque conseguito, dove non c'era un vincolo di domanda artificialmente compressa, oggi avremmo un prodotto interno lordo superiore all'attuale di 240 miliardi. Non solo ci rendiamo conto di cosa significa 240 miliardi. Stiamo vedendo una discussione su leggi finanziarie. Sulla mirindiera per 2 miliardi. Sì, ci si accanisce sul miliardo, sui 233, sugli 0 virgola, qui parliamo di centinaia di miliardi di PIL perso esclusivamente perché all'interno del paese circola meno potere d'acquisto di quanto sia necessario. E in questo contesto volevo leggere una seconda frase, perché poi introduce gli argomenti. La continua, e qui è importantissimo, da un puntista politico della Lega secondo me è fondamentale, la continua svalutazione dei salari imposta dalla Unione Europea. Perché la svalutazione dei salari è imposta? Perché nel momento in cui non si può agire sulla moneta, sulla valuta, qual è l'unica arma che si può utilizzare? La svalutazione dei salari, la compressione della domanda. Per cui, la continua svalutazione dei salari imposta dalla UE su pressione della Germania a tutti i paesi dell'eurozona ha ridotto la capacità di spesa all'interno del paese. I vincoli dovuti alla politica di austerity dell'eurosistema impediscono di mettere risorse finanziarie in misura controciclica. Controciclica vuol dire quando l'economia va bene la si segue però non la si stimola più di tanto ma quando l'economia per tanti motivi inizia ad andare male si cerca di stimolarla immettendo risorse finanziarie. Motivo per cui moneta fiscale, moneta alternativa. Esattamente. Questo perché noi siamo consci del problema che oggi esiste che il vincolo che i mercati finanziari ci pongono giustamente tu d'un altro dicevi prima c'è un debito pubblico alto però ricordiamoci che questo debito pubblico alto abbiamo citato prima il caso del Giappone è un problema in assenza di tensioni inflazionistiche in quanto è un debito in moneta straniera. Scusami se ti interrompo è anche espresso in termini percentuali sul PIL cioè non è il fatto dell'essere alto come numero assoluto è anche alto in termini diciamo assoluti però non è rispetto ad altri paesi tipo la Germania e la Francia che hanno dei debiti complessivi simili a noi anche se percentualmente sul PIL sono inferiori. Certo però quello che dobbiamo limitare se andiamo a vedere poi i trattati perché il paradosso è che quello che stiamo proponendo non solo non va contro nulla ma è assolutamente coerente con l'impostazione dei trattati web. I trattati dell'Unione Europea anche il fiscal compact che poi per essere pignoli è un trattato intergovernativo non esattamente un trattato dell'Unione Europea perché alcuni paesi non hanno aderito ma comunque a parte questo dettaglio cioè non è mai stato ratificato in un certo senso è stato volontariamente accettato dalla nostra classe politica ed è imposta alla popolazione come fosse un dato di fatto quando in realtà effettivamente grazie a Dio non è a differenza di altri trattati. Comunque tutti questi vincoli alla fine hanno un obiettivo quello di ridurre il rapporto fra debito e PIL ma il debito ha una definizione molto precisa che se uno va a leggere i trattati poi ritrova puntualmente il debito, il cosiddetto Maastricht Debt cioè il debito definito secondo i criteri di Maastricht è quello che deve essere rimborsato in euro perché se io ho raccolto soldi ho raccolto euro impegnandomi a restituirli mi posso trovare nella situazione in cui gli euro da restituire non li ho. Quello effettivamente i trattati ci dicono che va ridotto ma anche noi vogliamo che vada ridotto però la riduzione non posso farla continuando a bastonare l'economia con tagli e tasse perché il risultato è quello che abbiamo visto nelle ramonti l'economia si contrae i consumi calano le aziende falliscono le banche saltano e mi ritrovo con un PID in caduta e il risultato è che dopo la cura degli anni 2011-2013 il debito percentuale invece di calare è salito di 13 punti percentuali e non vi sto a dire cosa questo abbiamo voluto dire in termini di aumento della povertà di aumento della disoccupazione di aziende fallite di recessione per 13 trimestri consecutivi eccetera questo è quello che deve essere evitato quindi abbiamo due obiettivi quello di ridurre il debito di Mastricht ma quello di rilanciare il sistema produttivo quindi di far aumentare il fatturato dell'azienda aumentare l'occupazione aumentare il lavoro cioè da un punto di vista matematico ma in maniera molto semplice agire sul numeratore e agire sul denominatore ma se non agiamo sul numeratore cioè il PIL e la crescita del PIL il denominatore cioè il debito sotto non scende anzi sale ma scusate amici ascoltatori è come se in una famiglia e ne abbiamo già parlato le altre volte cioè alla fine l'economia è complessa però nella sua complessità è anche molto semplice e la semplicità è qui è come una famiglia cioè la gente si siede attorno a un tavolo abbiamo un ascoltatore che ci sta chiamando prego pronto sono Gianni da Genova buonasera 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 volevo dire noi abbiamo avuto anche la bella fortuna bella pensata con Napolitano di fare senatore a vita dalla sera alla mattina un certo Mario Monti che poi si è vantato di aver distrutto la domanda interna certo quindi meglio di così poi Natan Roshi diceva fate tutte le leggi che volete e fatele battere la moneta a me e quindi io e poi voi fate pure tutte le leggi che volete ne sa qualcosa come Repubblica di Genova Repubblica di Venezia che la loro moneta se la battevano certo ed erano delle potenze economiche enormi come ho detto l'altra volta la moneta è una gamba fondamentale del tavolo della sovranità cioè non si può avere una sovranità senza niente del fiscal compact del pareggio di bilancio sono tutte schifezze perché se non si fa lavorare le piccolissime imprese che sono quelle che fanno più in Italia e la Lega nel suo piccolo stava cercando di attuarla con la flag tax e liberare diciamo così la gente a lavorare a produrre ricchezza non si va da nessuna parte perché purtroppo lì in Europa c'è gente che non ha mai lavorato e il titolo di studio non è che fa la persona certo ma in questo contesto ecco il motivo della trasmissione questa sera è proprio il rilanciare la domanda rilanciare la domanda vuol dire poi in termini concreti dare fiato alle piccole e medie imprese il debito pubblico è una fregnaccia nel senso perché è la ricchezza delle famiglie il debito privato quello che è veramente grave come hanno nei paesi del nord Europa e anche in America bravissimo bravissimo e l'ho detto alcune settimane fa avendo vissuto nel nord Europa sì è vero i conti pubblici hanno una certa il debito pubblico è abbastanza limitato ma il debito privato è pazzescamente alto e ci vengono e ci vengono a razzolare a noi che nel complesso abbiamo un debito pubblico abbastanza elevato ma abbiamo anche un risparmio privato invece molto molto alto che dovrebbe fare diciamo un po' come la vera nella partita doppia di dire bravissimo è una cosa vergognosa però se i nostri politici non lo dicono e se innanzitutto se non lo capiscono non lo possono dire e se non lo possono non lo possono neanche spiegare di conseguenza poi quando noi della Lega iniziamo a dire qualche cosa ah noi siamo non quelli che vogliono sfasciare tutto ma basta vedere alla giornata d'oggi che un uomo vale quanto la sua parola data quando fanno sentire il gingolo a radio di 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 conte dell'avvocato del popolo fanno far sentire un giullare come Renzi che basta vederlo in faccia capisci già chi è certo la lista è lunga la lista è lunga buona serata grazie 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 alla prossima Marco allora in questo contesto parliamo delle piccole e medie imprese che sono fondamentali per l'Italia e il nord Italia in particolare ecco rilanciare la domanda Donato Marco visto che abbiamo due minuti di pubblicità vi do la parola dopo la pubblicità perfetto ok buonasera amici siamo qui con Marco Cattaneo nella seconda parte di It's the economy stupid e stiamo parlando della moneta fiscale dei certificati di credito o compensazione fiscale secondo adesso della dell'evoluzione proposta per rilanciare la domanda interna per dare una risposta ai problemi che l'austerity e l'eccessivo burocratizzazione e finanziamento finanziare azione bravissimo Marco parola difficilissima però con un concetto molto semplice le banche guadagnano e noi piccoli e medi imprenditori no come fare per uscire moneta fiscale credito fiscale ecco entriamo al limite nella un po' nei dettagli tecnici in maniera semplice però devo spiegare il concetto prego allora il concetto dei certificati di compensazione fiscale all'inizio li chiamavamo certificati di credito però abbiamo modificato mantenendo la stessa sigla CCF la parola da credito compensazione per evitare un equivoco cioè il credito fa pensare a qualcosa che deve essere rimborsato il certificato di compensazione e qui si può ricollegare un po' i minibot ne parleremo poi in un'altra poi ne parliamo perché i minibot se vogliamo sono una variante rispetto al quale i CCF sono mi permetto di dire un concetto estensivo e più comprensivo sì i CCF cosa sono? sono titoli che vengono distribuiti tra la popolazione e le aziende che danno diritto a beneficiare di sconti di pagamento verso l'erario in pratica io ricevo un titolo di questo genere che è un po' l'equivalente di un BTP o di un CTZ con una scadenza di 24 mesi con la differenza che mentre il normale titolo di Stato dopo 24 mesi mi viene rimborsato in euro il CCF non viene rimborsato ma mi dà diritto a beneficiare di una riduzione di imposte devo pagare IVA devo pagare IPEF che devo pagare contributi all'Inps qualsiasi cosa debba pagare al settore pubblico anche una multa per esempio la posso compensare fino a concorrenza dei certificati di compensazione fiscale la base logica è come si dice sempre nella vita ci sono solo due cose certe la morte e le tasse in un modo o nell'altro prima o poi dobbiamo pagare le tasse o delle tasse e di conseguenza avere questo certificato di compensazione fiscale è una riduzione del carico fiscale nel futuro ed è questo importante il concetto di futuro cioè il fatto che non vengano utilizzati utilizzabili immediatamente ma in un tempo più avanti il motivo proprio dello sviluppo della domanda eccetera eccetera infatti il motivo per cui esiste un differimento che appunto abbiamo ipotizzato essere di 24 mesi tra il momento in cui li ricevo e il momento in cui li posso usare per ridurre tasse è quello di dare il tempo all'economia di recuperare e fare in modo che si crei una crescita di PIL che vuol dire anche una creatività di gettito lordo per le pubbliche amministrazioni che va grossomodo a pareggiare l'utilizzo dei CCF quando giungono scadenze l'altro punto che va messo in evidenza è che quale utilizzo prevediamo per i CCF l'utilizzo è ad ampio spettro noi vogliamo dare benefici sostanzialmente a diversi centri sociali e a diverse tipologie di cittadini e di aziende quindi vogliamo integrare i redditi non so un lavoratore che percepisce 1200 euro netti al mese cash riceve anche un CCF del valore facciale potiamo di 100 euro lo stesso individuo all'azienda siccome esiste il cuneo fiscale di cui tanto si discute ne costa circa il doppio più o meno quindi per dare 1200 euro netti al lavoratore l'azienda si sobarga a un costo complessivo di 2400 questo glielo riduciamo perché all'azienda diamo anche a lei 100 euro in certificati di credito fiscale quindi il suo costo effettivo di compensazione fiscale il suo costo effettivo scende e questo migliora anche la competitività la capacità di spesa del lavoratore aumenta senza modificare o incrementare il debito pubblico questo è importante senza incrementare il debito pubblico perché certi casi di compensazione fiscale e questo l'abbiamo verificato studiando di qua abbiamo perché poi c'è un gruppo di lavoro che comprende diversi economisti diversi studioli ricercatori intorno a questa idea il certificato di compensazione fiscale non rientro in alcuna maniera in nessuna definizione di debito pubblico valida ai sensi del trattato di Maastricht ma attenzione che fra le tante illogicità del sistema euro questa è una cosa che ha anche una sua logica perché quello che non devo rimborsare cash effettivamente non è un debito è un qualcosa di cui dovrò tenere conto nel momento in cui svilupperò i miei piani di budget pubblico eccetera a 2, 3, 4, 5 anni data ma non è un indebitamento per cui io Stato rinuncio a 2, 3, 4 anni a un incasso parziale di alcune tasse ma ne godo perché come hai detto te l'immissione nell'economia reale di nuova disponibilità finanziaria grazie al moltiplicatore il moltiplicatore è molto semplice io do 1.000 euro a Marco adesso e Marco li spende e nell'arco dell'anno quei 1.000 euro in realtà creano diciamo una ricchezza lorda di 3, 4, 5, 6 volte a seconda della velocità di spese eccetera e di conseguenza visto che in Europa abbiamo l'IVA che sia al 20 22 25 ogni volta che c'è un acquisto lo Stato recupera quel 20% e di conseguenza quel piccolo sconto o quel piccolo sacrificio chiamiamolo finanziario che lo Stato può accettare all'inizio viene o dovrebbe essere ampiamente ricompensato dal riciclo all'interno dell'economia creando però e dando comunque potere d'acquisto ai lavoratori diminuendo il costo del lavoro per le aziende senza senza andare a toccare i trattati e di conseguenza tutte le varie accuse che fanno alla Lega vogliamo uscire dall'euro vogliamo ribaltare no no noi non vogliamo ribaltare assolutamente nulla vogliamo essere in maniera molto intelligente utilizzare tutti gli strumenti tecnici che sono già esistenti di conseguenza è una semplice volontà politica di non più seguire asserviti gli interessi di alcuni paesi Germania e Francia diciamolo ma di alla luce delle peculiarità dell'economia italiana cercare di dare delle soluzioni delle proposte che vadano per la nostra economia in questo caso specifico dopo vent'anni di distruzione della domanda interna dobbiamo ricostituire la domanda interna e l'unico modo veramente da un puntista tecnico è questo della moneta fiscale chiamiamola così sì ci tengo a puntualizzare e sottolineare rispetto a quanto diceva Donato infatti dare alcune cose quando per la prima volta io personalmente ho parlato di certificati di compensazione fiscale che è un progetto che è partito nel 2012 quindi ormai da 7 anni quindi se ne è discutito e vogliamo dare credito anche ad alcuni degli autori in particolare Stefano Silo Slabini dell'Enea Biagio Bossone Massimo Costa e Marco Catani ovviamente ecco quando si è cominciato a parlare alcuni diciamo così lasciatevi chiamare oltransisti ma il termine non vuole essere negativo né tanto meno spregiativo che avevano identificato e facevano ricerca facevano comunicazione sulla tematica delle disfunzioni dell'euro mi hanno personalmente ci hanno spesso imputato di voler preservare un sistema che essendo nato male è destinato a rompersi deve essere sostituito da qualcos'altro la mia posizione allora e non è cambiata è molto semplice l'euro non andava fatto è un sistema sbagliato però se cerchiamo la maniera di uscirne con una rottura ci scontriamo con problemi di pubblica opinione di turbolenze da parte dei mercati finanziari di rottura di contratti quindi problemi di rottura giuridica di pubblica opinione confusa e spaventata perché dice ho soldi in banca domani cosa diventano che cosa succede eccetera rischiamo veramente di non uscirne mai non dobbiamo cercare una via deflagrante nello stesso tempo però non dobbiamo neanche pensare che questa innovazione vada introdotta andando a chiedere permessi a non si sa bene chi tutto questo con i trattati è coerente non rompe nulla per cui l'innovazione che va introdotta senza chiedere autorizzazioni e permessi ma non perché si voglia entrare in una posizione conflittuale ma semplicemente perché tutto questo è compatibile se è compatibile è permesso e se è permesso si può farlo e lo si fa ai mercati finanziari per cui ricordiamoci anche una cosa l'Unione Europea la Banca Centraeuropea ci fanno lezioni dalla sera alla mattina ma in realtà non ci danno un centesimo siamo noi contribuenti Certo siamo contribuenti 9 miliardi e mezzo l'anno la BCE una garanzia esplicita sul debito pubblico dei vari paesi non la dà è sbagliato che non la dia sarà sbagliato ma non si può pensare di modificare questo assetto perché non ci sarà mai consenso i tedeschi non lo vogliono dare sono d'accordo è un dato di fatto è una verità fattuale è un fatto non gli farei certo cambiare opinione allora si dice emettiamo questo strumento andiamo a spiegarlo a tutti perché non abbiamo nulla da nascondere ma non per chiedere permessi lo spieghiamo anche ai mercati finanziari che poi sono gli unici che in questo momento ci rifinanziano debito in euro cioè gli unici che ci danno veramente soldi oggi sono i mercati dei capitali ai mercati dei capitali diciamo guardate che questa cosa qui a voi non interessa perché è uno strumento a circolazione interna è un succedaneo monetario che non è destinato a essere rimborsato qui non ci sono rischi di default non ci sono rischi di nulla i soldi che tu mi hai prestato quindi il debito effettivo il debito con i criteri di Mastricht andrà diminuendo nel tempo il rapporto al PIL a questo punto tu sei tutelato meglio di oggi perché oggi ti pone il problema dal tuo punto di vista capisco che tu te lo ponga di un'Italia che ha un debito elevato e non si intravede una strategia per diminuirlo quando Monti ha provato appunto ad abbassarlo martellando la domanda interna come diceva l'ascoltatore di prima ha ottenuto ovviamente il risultato opposto ha mandato l'economia a precipizio ed ha aumentato il rapporto debito PIL di 13 punti è chiaro che così non ne esci per cui bisogna dire il debito di Mastricht non aumenta neanche di un centesimo perché quello che ci serve in più per rilanciare la nostra economia lo facciamo con questo strumento né più né meno di quello questo è un discorso razionale è un discorso che è una logica è un discorso che possiamo mettere in atto ed è un discorso che non va in rottura con niente quindi il mio punto di approccio è niente rottura ma niente soggezione o subordinazione proposta concreta ed efficace vedete quando si dà il potere quando parliamo dell'Unione Europea voi sapete che a me non piace mai parlare dell'Europa siamo tutti europei e di conseguenza pro Europa parliamo dell'Unione Europea nella struttura attuale per cui con la propria burocrazia i propri centri di potere i centri di interesse nel momento in cui questi poteri sono stati dati o apertamente o in maniera così sotterranea ma sono stati dati e di conseguenza la capacità di mettere moneta non c'è più e c'è solamente la Banca Centrale Europea le nostre stesse leggi oggi abbiamo il Parlamento ha approvato la diminuzione dei parlamentari di un terzo perché in realtà circa il 65 70% delle leggi italiane non sono altro che il ricepimento di o leggi o direttive dell'Unione Europea di conseguenza c'è una duplicazione di ruoli e di spese ma nel momento in cui diamo il potere a Bruxelles è ovvio che Bruxelles indipendentemente dalla cattiveria delle persone che sono lì ma è una questione umana non lo daranno mai e andare a chiedere come degli elemosinanti dei mendicanti la flessibilità ci fanno il favore siamo un pochino più simpatici dei precedenti quello che dice il governo non è così come ha detto Marco questa è una proposta concreta efficace immediata potenzialmente immediata senza aumentare il debito e soprattutto rientra all'interno dei trattati e di conseguenza non c'è bisogno di chiedere permesso a nessuno dobbiamo mostrare un po' di coraggio dobbiamo mostrare capacità propositiva questa è una forse non è l'unica assolutamente il motivo della trasmissione è per aprire anche un dibattito su queste cose io ritengo che sia senz'altro una proposta efficace ma l'approccio deve essere siamo il secondo paese industriale europeo siamo effettivamente un paese fondatore basta così è perché l'alternativa l'abbiamo già vista da vent'anni questo paese è in una spirale di decrescita economica di impoverimento finanziario e anche culturale sociale perché poi l'economia motivo per cui la trasmissione si chiama The Economy Stupid guida tutto se non ci sono i soldi per fare gli asili se non ci sono i soldi per dare il lavoro alle persone ovviamente ci sono poi problemi sociali di salute criminalità e così via e di conseguenza questo è l'argomento tutti gli altri sono argomenti come dire così paralleli vogliamo parlare no di altre cose che non sono che non hanno impatto sulla vita quotidiana di tutti noi per tornare velocemente però ecco alla alla un po' introducendo visto che si parla molto di minibot molti degli ascoltatori hanno una certa familiarità con la parola minibot qual è però in termini molto succinte e semplici la differenza c'è una differenza fondamentale che è proprio anche di dimensione ma poi c'è anche una differenza proprio tecnica chiamiamola così prego Marco si tra l'altro io di minibot con Claudio Borghi ho avuto l'occasione di parlare proprio ai primordi proprio nel periodo in cui stavo elaborando la prima versione di questa proposta è proprio il novembre del 2012 sette anni fa ho fatto una chiacchierata a pranzo con Claudio e ci siamo un po' confrontati e lui mi ha detto guarda io ho un'idea che in qualche maniera assomiglia a questo anzi ho già pubblicato anche qualche articolo Borghi in quel momento era una persona che comincia ad avere una certa notorietà perché partecipava a trasmissioni tv però non aveva ancora incarichi politici nella legge questo è venuto successivamente allora i mini bot di cui poi si è parlato qualche mese fa perché a fine maggio c'è stata anche un'ambuzione approvata dalla camera sul tema che ha creato anche molta confusione perché il PD ha votato a favore senza capire di cosa parlava da una parte e dall'altra e poi ne parliamo dopo una reazione spropositata e scomposta da parte di Draghi secondo me scomposta non lo so quando ha detto o è debito o è moneta se è moneta non può esserlo debito non lo si può accettare diciamo una reazione sbagliata una reazione sbagliata però diciamo che aveva io adesso non è che voglio evitare la polemica così tanto per non farla ma credo che sia una domanda stata una domanda posta così a un passato la risposta comunque è stata sbagliata diciamo parlando con Borghi i mini bot di Borghi i mini bot di Borghi sono un'applicazione nel concetto perché sono anche quelli un titolo a utilizzo fiscale la differenza fondamentale che Borghi propone di utilizzarli per pagare debiti di fornitura della pubblica amministrazione verso le aziende che hanno degli scaduti o anche debiti di imposta per un campo di utilizzatori crediti di imposta tipo quelli per le strutturazioni immobiliari che sono destinati ad essere utilizzati cioè al posto di questi crediti io ti ho la facoltà di ricevere un titolo a cui do anche forma cartacea che è spendibile immediatamente ora la mia obiezione su questo è che si tratta di un'applicazione molto limitata molto limitata soprattutto perché si tratta della sostituzione di un qualcosa di cui comunque l'azienda fornitrice beneficerebbe è vero che la pubblica amministrazione paga tardi qualche mese con mesi di ritardo eccetera però alla fine arrivano c'è un credito legittimo assolutamente esattamente poi si dice sì per oggi ci sono aziende che falliscono perché l'amministrazione pubblica paga tardi vi è citato il caso di Bramini di imprenditore monzese che è fallito con 4 milioni e mezzo di credito in cassetti però Bramini è fallito su un passivo di un milione e mezzo di euro nella proposta tra l'altro Borghi aveva previsto un limite massimo di 25 mila euro perché non avrebbe dato 25 mila euro su un po' di un milione e mezzo è chiaro che il problema delle imprese che falliscono non risolviamo il campo di applicazione è per definizione più limitato e questo secondo me mi permetto di dire io poi per Claudio molta stima e molta simpatia assolutamente è una persona gradevolissima è estremamente competente però la proposta presentata così indubbiamente fa confusione perché siccome è chiaro che non è risolutiva allora fa pensare che sia un passaggio per arrivare a qualcos'altro se per arrivare a qualcos'altro allora uno schifo dice vabbè ma qualcos'altro cos'è allora su quel qualcosa d'altro poi ne parleremo nelle prossime puntate in questa puntata possiamo solamente dire questo da puntista politico l'esempio della Grecia ci insegna che nel momento in cui uno dei paesi membri dell'Unione Europea ha problemi finanziari e di relazione con Bruxelles è fondamentale poter avere un piano B un piano alternativo cioè non si va mai a una negoziazione senza nessuna nessuna alternativa nel caso specifico della Grecia non avendo la possibilità di emettere moneta sono dovuti andare come dei mendicanti e purtroppo come i mendicanti sono stati trattati da Bruxelles con tutti i problemi i casi eccetera Donato mi permetto ho un inserto proprio da archivio Mario Monti sulla Grecia è imperdibile assolutamente ve lo sottopongo l'attenzione vostra e degli ascoltatori dura 40 secondi certo oggi secondo me stiamo assistendo non è un paradosso al grande successo dell'euro e qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro la Grecia perché? perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica ma soprattutto per convincere la Germania che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea che attraverso l'euro attraverso i vincoli che nascevano con l'euro la cultura della stabilità il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare caso limite di una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa impagabile impagabile veramente ma soprattutto mi vengono altri aggettivi ma lasciami stare ma veramente un servilismo un'attitudine i tedeschi hanno fatto il sacrificio di dare via ma di che cosa stiamo parlando ne abbiamo parlato la settimana scorsa i tedeschi non hanno avuto il coraggio gli do atto della disciplina per vent'anni il marco forte hanno saputo vendere e fare le Mercedes la BMW a differenza di altri produttori diciamo di macchine italiane che hanno scelto come dire intrallazzi politici eccetera invece di focalizzarsi sulla qualità sugli intrallazzi se parliamo lo scandalo alle emissioni diesel bravo comunque però diciamo diamogli atto però l'abbiamo detto anche la settimana scorsa i tedeschi l'euro ha salvato la Germania dalla rivalutazione noi parliamo sempre dell'Italia la povera italietta con la svalutazione come se fosse la sifilide e il nostro bagaglio storico-culturale i tedeschi sono riusciti e i fatti lo dimostrano a mantenere l'egemonia politica economica e finanziaria dell'Unione Europea senza pagare il costo politico interno di una svalutazione del marco che era troppo forte e si sono inventati ci hanno fatto prendere la pillola dorata dell'euro che per noi è troppo forte e per loro è troppo debole e perché lo dico? perché se andiamo a vedere il surplus commerciale della Germania così come noi non sfondiamo mai il 3% ma ci arriviamo vicini loro lo sfondano il 6% perché qualche anima buona nel trattato di Mastri ti aveva messo sì è vero non dovete andare oltre il 3% però come deficit debito pubblico però anche come surplus commerciale essendo comunque una coperta l'euro non la si può tirare troppo da una parte dall'altra nessun paese dovrebbe andare sopra il 6% e i tedeschi cosa hanno fatto? la disciplina tedesca ma di che cosa stiamo parlando? l'11% all'anno 9% 8% adesso ancora si sono limitati sono al 7% all'8% sfondano allora la differenza è se tu sfondi il 3% ti arriva Moscovici e ti prende le chiavi di casa se tu invece sopra il 6% eh carangela l'anno prossimo cerca di fare un po' meglio e l'anno successivo beh sì dai dai ancora un anno ma di che cosa stiamo parlando? ma questa è un'attitudine umana cioè siamo noi servi però scusa Donato su questo vorrei dire poi è anche un problema di enforcement nel senso che se tu superi un livello di deficit e però questo deficit lo devi finanziare sul mercato hai un problema di finanziamento certo se tu hai un alto surplus non ti dice nulla a nessuno cioè ti posso anche dire che stai violando però distrugge l'economia degli altri ho capito però scusate dobbiamo anche uscire dalla logica è tutto giusto ma non risolve nulla perché tu ai tedeschi puoi dire quello che vuoi loro non si spostano di un pelo e anche noi dobbiamo imparare a non spostarci noi dobbiamo semplicemente ripeto uscire dall'alternativa acquiescenza conflitto noi non andiamo in conflitto con nessuno ma non siamo neanche acquiescenti bravissimo bravissimo quello che abbiamo bisogno di fare lo facciamo e abbiamo lo strumento cari ascoltatori un'ora è andata via come fossero due minuti abbiamo fatto meglio degli svizzeri ci fermiamo qua ringrazio ancora l'amico Marco che senz'altro sarà mio offrite ancora nel futuro perché ne abbiamo tante cose da parlare e alla prossima settimana e alla prossima settimana